Per l'ottava giornata di ritorno il Rimini va a far visita alla Fiericcione, una delle matricole terribili di questo campionato, riduce da tre vittore di fila senza subire gol e che in classifica è quinta insieme alla Merignanese a quota 43. I biancorossi di punti ne hanno 64, più 11 sul Sassomarconi secondo e strisce aperta di otto vittore di fila in campionato. È un derby particolare per l'idiatore del progetto Rimini Football Club Giorgio Grassi e di la DS Biancorosso Pietro Tamai, fino a pochi mesi fa rispettivamente presidente e direttore sportivo della società Biancazzurra. Tanti gli ex in casa Riccione, a partire dal tecnico Gianluca Righetti e da Cecconi, trasferitosi alla FIA lo scorso dicembre, per continuare con Enea Righetti, De Luigi e Tamburini. Mastro Nicola ritrova Gabrielli che ha scontato alla squalifica, out gli infortunati Buonaventura, Bacchiocchi, Moretti e Cola. Righetti non può invece schierare gli infortunati Lepri e Santucci, anche lui ex Rimini. La partita, dopo un giro di lancetta e corner per la FIA, batte Righetti, Piscaglia non ci arriva e l'opportunità sfuma. Al settimo corner di Ricchiuti, Sottile sfiora, Valeriani ci mette il petto, sfera lato di un niente. Al decimo angolo di Righetti, Piscaglia prova ancora a svettare, ma disturbato non trova il bersaglio. Al sedicesimo De Luigi in avanti per Cecconi, che gioca di sponda per Sottile, il cui fendente sul primo palo costringe Scotti e la deviazione in corner. Al ventunesimo Ricchiuti inventa per Cicarevic, che non controlla al meglio, favorendo l'uscita di Liardini, che fa su al pallone. Al ventiseiesimo Ricchiuti prova a far filtrare per Signorini. Il pallone torna sui piedi dopo il tocco di Piscaglia, allora l'Italo argentino va al tiro, sfera a fondo campo. Alla mezz'ora Sottile controlla e calcia, Scotti vola e leva la sfera dall'incrocio. Al trentaquattresimo ancora Sottile può andare al tiro, il portiere Biancorosso si rifugia ancora in corner. Al trentanovesimo, dopo una prima parte di gara di marca Fia, il Rimini si porta in vantaggio. Cicarevic riceve da Ricchiuti, prende la mira e conclude di destro a giro. Conclusione imparabile, Biancorossi avanti 1-0, punteggio con il quale si va all'intervallo. Al quarto della ripresa, Ghebre accelera a sinistra, pallone al centro per Valori, Lerdini salva ma non blocca, poi con il pugno evite la tapina di Cicarevic. Al quinto Ricchiuti beffa Lerdini con una conclusione che gli passa sotto le gambe, Rimini 2, Fiericcione 0. Al decimo Valori va la battuta, Lerdini respinge. All'undicesimo Savioli per Cecconi, che può calciare da ottima posizione, pallone morbido tra le braccia di Scotti. Al tredicesimo la Fia accorcia le distanze, Scotti ribatte la conclusione di Savioli, ma nulla può sul tapina di Cecconi, 1-2. Al quarto d'ora Ricchiuti si muove in area su invito di Signorini, la prima conclusione è ribattuta, la seconda è deviata sull'esterno della rete. Al quarantacinquesimo episodio da Moviola nell'area Biancorossa, Savioli in vantaggio su Giuha e nel corpo a corpo finisce a terra. Per l'arbitro non è rigore, i padroni di casa non ci stanno e Nerighetti viene ammonito per proteste. Il tecnico Luca Righetti ed un dirigente si fanno cacciare dalla panchina. Finisce 2-1 per i Biancorossi, che mantengono 11 punti di vantaggio sul Sasso Marconi, vittorioso sul campo del Faro Cop. Finisce 2-1 per i Biancorossi, che mantengono 11 punti di vantaggio sull'esterno della rete. Finisce 2-1 per i Biancorossi, che mantengono 11 punti di vantaggio sull'esterno della rete.